Ciao ragazzi bentornati sul canale e bentornati su War Thunder Come sempre prima di iniziare a vedere l'unità di oggi vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto Se volete provare il gioco completamente gratuito trovate il link nella descrizione Instant Gaming se volete acquistare giochi a prezzi scontati, sempre il link in descrizione L'unità di oggi, aprite bene le orecchie, è il BV238 Un'unità che mi avete chiesto in live e che mi state continuando a chiedere in tanti Quindi ho deciso di farci un bel gameplay sopra Vediamo subito le caratteristiche di questo fenomenale idrovolante a scafo centrale Bombardiere pesante, bombardiere a lungo raggio premium tedesco Allora, abbiamo torrette con un cannone da 20x2, mitragliatrici da 13x4 E possiamo portare con noi esattamente 20 bombe da 250 che sono tantissime 10 membri dell'equipaggio, abbiamo una velocità massima di 421 ad altitudine 6600, quota massima 9000 Tempo di rotazione 30 secondi, tasso di salita 3 metri al secondo Spazio di decollo abbiamo bisogno di 3000 metri Come vedete le torrette, come vi farò vedere anche nel gameplay, abbiamo tantissime torrette che possono coprire a 360 gradi Praticamente hanno un raggio difensivo di 360 gradi Comunque lo vediamo tra poco nel gameplay Abbiamo un totale di 6 motori, un idrovolante davvero mastodontico E qualcosa di imponente quando vola e lo vedi perché è davvero gigantesco Comunque sia ragazzi, è un'unità che consiglio, la consiglierò sempre È in grado di sbloccare in maniera efficace le unità dall'era 1 all'era 3 È un'unità divertentissima Adesso ragazzi non perdiamo altro tempo e andiamo in partita Per quanto riguarda l'armamento difensivo partiamo anche e soprattutto da quello Abbiamo una copertura direi quasi totale a 360 gradi come potete ben vedere Anche l'attacco sotto di noi è abbastanza buono Poi ovviamente ci sta la zona morta Però in definitiva siamo coperti direi molto molto bene Ma io vorrei anche a questo punto confrontarmi contro i bombardieri nemici se fosse possibile Altrimenti qualsiasi cosa va bene Ce la facciamo a distruggere una base che è rimasta veramente con pochissima vita? Eh, non è possibile, dai, guarda Nessuno riesce a distruggerla Mi sa che dobbiamo sganciare noi un paio di bombe Allora, abbiamo tutti i nemici molto bassi E dobbiamo andare noi ragazzi per quella base È rimasta veramente a poco Io direi che due bombe sono più che sufficienti Anche se una... No, una andiamo a rischiare Due bombe penso che sia il numero giusto da utilizzare Ti ho visto Vabbè, facciamo fare i nostri bombardieri Perché no... Eh, i nostri mitraglieri Perché noi dobbiamo andare a distruggere la base davanti a noi Quindi due bombe Una e due Ok Abbiamo subito danni alla coda Ok Due bombe sganciate Sto rimanendo di proposito abbastanza basso Per cercare di ottenere una kill Anche se adesso vorrei Difendermi in maniera corretta Arriva l'attacco del 63 Saliamo ancora Arriva lo Spitfire Arrivano un po' tutti per la verità Eh, lo Spitfire non l'avevo considerato Distrutta, danneggiata Ok Vai Sali, 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 sali Arriva, arriva, arriva l'attacco Eh, ma questi stanno dormendo però, eh Invece di attaccare Poteva arrivare la kill però non è arrivata Ci accontentiamo di un critico Purtroppo solo un critico Leviamo il web Fortunatamente abbiamo sei motori Quindi se uno dovesse essere distrutto, danneggiato Ne abbiamo altri cinque Anche con quattro dovremmo volare più che Più che bene Allora, otto bombe Eh, cerchiamo subito un allineamento corretto La missione prevede di distruggere le basi E noi distruggiamo le basi Siamo gli unici che a questo punto Che possono completare questa missione primaria Perché poi c'è l'aeroporto Non vorrei rovinare la festa però Ok Ok Ok, perfetto Altre bombe via Via le bombe Allora C'è uno Spitfire che prende Si avvicina sempre di più No, questo qua insiste Eh, vai via Ok Risparmiamo qualcosa per lo Spitfire Che arriva a due chilometri E anche velocemente La base comunque ce la portiamo a casa Assolutamente Assolutamente Ah, distrutta Attenzione Forse anche set Andavano bene Comunque sia Non è una grossa perdita Perché abbiamo ancora Dieci bombe Quindi possiamo distruggere Un'altra base Proviamo? Eh sì Se arrivano i colpi suoi Arriveranno anche i miei A maggior ragione Arriveranno i miei Ok Lui vuole prendere Velocità E attaccarmi da sotto No, no Ok Ok Perfetto Fantastico 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 Mai sottovalutare Mai sottovalutare Un 109 Anche se abbiamo perso Un Allora abbiamo Olio 123 Al motore 3 Non è un grandissimo problema L'aereo è stato Trivellato di colpi Però mantiene Mantiene Un certo Assetto di volo Quindi io direi Di fare una bella virata Facendo attenzione A non rompere nulla Facciamo un po' di fatica A virare Però Già è grande di suo Il nostro Idrovolante E in più con i danni La coda è quella Che mi preoccupa abbastanza La coda è stata Trivellata Allora Finché voliamo Diciamo che Non ci sono problemi Un atterraggio Lo vedo abbastanza Complicato Meno male che abbiamo Molta Diciamo Molto spazio Per fare questa virata Perché come vedete Ci servono Molti metri Abbiamo perso anche Molta quota Siamo a 4700 Il che ci rende Ancora più vulnerabili Ai nemici Ah ok Siamo rimasti da soli Aha Ok Adesso Cerchiamo di Salire ancora Sganciare le ultime bombe Perché è l'unica cosa Che possiamo fare In assoluto E poi Cerchiamo di resistere Come Come riusciamo Abbiamo tra l'altro Due Allora Aspetta Acqua 114 Perché l'olio Oh cavolo Acqua surriscaldata E' vero che abbiamo 6 motori Però La nostra sfortuna E' che sono tutti Da un lato Quelli danneggiati Questa E' una cosa Che non ci voleva Tutti da un lato Non possiamo Gestirli Posso capire Magari Uno da una parte Uno a sinistra E uno a destra Ma tre sul lato Mi vanno completamente A sbilanciare Proprio l'assetto Quindi dobbiamo fare Il prima possibile A sganciare Le bombe Perché a lungo andare Da arancioni Ecco appunto Uno è andato Un motore Si è fermato Il prossimo a fermarsi Sarà quello centrale Rosso E poi quello di sinistra Oh cavolo Mettiamo il 100% Vai Quanto manca Alla base Siamo da soli Siamo da soli Guarda quanti ce ne sono Abbiamo fatto Due chili in totale C'è un'intera squadra Che ha fatto due chili Di cui una chili L'ho fatta io Ok Il B25 Viene distrutto Non so come Vedete che già si sta Leggermente sbilanciando A sinistra Mi dà questa impressione Quanto manca Cerchiamo di mettere In assetto Vai La tua velocità È troppo bassa E certo Abbiamo anche Uuu Arriva qualcuno Cavolo Il motore è andato Non so se sopravvivo A questo attacco No Da Che mira che ho Che mira Che mira No La base è a destra Veloce 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 Non è facile Mi sta attaccando Da dietro Uno si è schiantato Aiuto Le sgancio tutte Io premo sempre Perché se no Non ce la farò mai Tanto è inutile Tenersi due bombe Mi appesantiscono Via Sgancio tutto Sgancio tutto Alleggeriamo il carico Abbiamo perso il motore Ok Ok Oh cavolo Vedete che Ci stiamo sbilanciando A sinistra Come era prevedibile Non abbiamo potenza Da quella parte Qua tutti Vogliono prendere La kill E non ve la do Così facilmente Però Andiamo a fuoco Andiamo anche a fuoco Spengiamo il motore Ma ormai Direi che Il nostro Incredibile Abbiamo spento L'incendio Un nuovo attacco Da parte del Sì Va a fuoco Sì Un aereo abbattuto L'indistruttibile B V 238 Incredibile Cosa sta succedendo Veramente incredibile Veramente incredibile Abbiamo subito Danni incredibili Siamo sopravvissuti All'incendio Abbiamo un motore Fuori uso Presto ci sarà Anche un altro Motore Altri due motori Andati Veramente Guarda Come è riuscito A sopravvivere Trivellato di colpi A destra e a sinistra Abbiamo perso Anche un flap Quello di sinistra Siamo saliti A 3156 punti Un atterraggio In queste condizioni È a dir poco Impossibile Rimane solo La base Nemica Però Quelle due bombe Non avrebbero fatto Assolutamente la differenza Dobbiamo provare A questo punto No ma non riesco Neanche a Proviamo Ma è impossibile Da atterrare È impossibile Non arriverò mai No No ci stiamo sbilanciando Potenza massima Eh lo sapevo Che non devo fare Questa virata Lo sapevo Non lo riprendo più Non lo riprendo più Non ho potenza Non riesco a stare In assetto Ok arriva Un altro nemico Oh cavolo Oh cavolo No Non sopravviverò A questo Non ce la faccio Sopravvivere Colpo Colpo E basta Colpo Ok Non so Quanto tempo Posso Sopravvivere Ancora Ho Cinque motori Su No si è appena Fermato un altro motore Abbiamo quattro motori Su sei Che partita Tutto da vivere insieme Incredibile Arriva anche il sessanta tre Aiuto Ma quante cavolo sono Ok con quattro motori Potrebbe essere un problema Diamo il cento per cento Per cercare di mantenere Un assetto Perlomeno stabile Incredibilmente Con quattro motori Riusciamo ancora A dire la nostra Quattro motori Anzi tre più uno Perché quello lì È quasi andato Mi stanno attaccando adesso In due Quindi Veramente Ogni attacco Potrebbe essere l'ultimo Adesso dobbiamo capire Quanto riuscirò A resistere Siamo scesi ormai A duemila e ottocento metri Non abbiamo più Una quota di sicurezza Abbiamo il sessanta tre Che vuole provare Sicuramente un attacco Dall'alto Oh cavolo Guarda Quello adesso scende Tutta una volta Eccolo Arriva Arriva Fuoco Vai Un bel fuoco Di sbarramento Si vuole avvicinare Il più possibile Ottima idea Ottima idea No Non lo tengo più 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 Stiamo andando giù come Come una mela marcia Ormai il BV228 Ha dato tutto Quello che poteva Eh però Non ce la facciamo più A rimanere in assetto Non ce la facciamo più Non so più cosa inventarmi Abbiamo ovviamente Il flap di sinistra Completamente andato E stiamo andando giù Andiamo giù Signori Si un'altra kill Però prima un'altra kill Ce la portiamo Ne arriva un altro Ma quanti cavolo sono L'indistruttibile BV238 Tutti vogliono la kill Di devi E poi alla fine Un altro kill Incredibile Non ci voglio credere Abbiamo fatto quante kill Quattro kill 4421 Una partita Veramente Qualcosa di fenomenale Siamo riusciti A resistere Tantissimo Contro Non so quanti nemici Ne abbiamo distrutti Quattro Abbiamo distrutto Tante basi Alla fine La kill però È arrivata Eh al nemico È stata una partita A dir poco Epica E qui il BV238 Fa una fine davvero Eh ingloriosa Però veramente È stata una partita Secondo me Fantastica Mi raccomando Supportate questa partita Con tantissimi Dobbiamo arrivare almeno A 150 mi piace Cioè qui non si scappa 150 Se no veramente È un fallimento Abbiamo portato a casa Vendicatore Salvatore di forze di terra Doppio colpo Terrore dei cieli E anche Esperienza lì Eh Per l'unità successiva E leoni Che non fanno mai male Ragazzi Video terminato Io come sempre Vi ringrazio per i like I commenti E le visualizzazioni E noi ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Grazie.